E' una stella minchia, è una stella minchia, rubiamo, rubiamo per favore. Va bene, buonasera signori e signori, questa sera abbiamo quattro graditi ospiti, uno purtroppo non sta proprio bene. Questa sera si cimenteranno nel conquistare queste due bellissime ragazze che decideranno chi è il migliore conquistatore. A voi. Wow, sì, ok, ok, metti il timer. Ok, metti il timer, parto io. O partite? Non si può proprio, devo farmi la cazzo, aspetta, non lo metto. No, prendi il microfono sempre in mano te. Minchia, ho pure questo, Gio. Ok. Ma senti pure, sì, mi siedo qua. Qua cosa? Ok. Ah, ok, noi ci vediamo. Sì, sì, mettete uno che mette il timer di tre minuti. Ah, tre minuti? Tre minuti. Sono tanti tre minuti. Mi hanno finito. Mi faccio diventare tre minuti e dieci secondi. Io vai. Addirittura? Vai. Siediti pure sopra. Siediti pure sopra. Ok. E' così. Ok. Nel senso, non farei queste cose strane. Eh, chi è il timer? Io. Ok. Intanto chiudi le gambe perché già così non guarda. Guarda qui. Aspetta, prima ti devo fare la scena dove salgo, perché comunque è importante lo sciaccio. Ah, la muschetta. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Dimmi quando iniziare. Sì, è svenuto il mio moderatore. Sacca troia. Vai, vai. Ok. Se ti prendo ti bacio. Mim mandala photo chain on poster. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Sì, sto bene. Cosa... Ti piace... Se ti prendo ti bacio. Scusami, mi devi dire. Un secondo. Cioè, mi chiedi cosa ti piace un gelato. 45. Se ti prendo ti bacio. Vabbè, a me piace... Mi piace i gelati. Zitta! Ah, ah! No, 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 no. Allora, a me piacciono i gelati, stracciatella, puffo. Ah, belli. Ehm... Stracciatella, puffo. Dimmi un altro... Un altro... Sì, ti prendo. Ti bacio. Chi sta, chi sta? A me mi sono stato. Pi buono! Ciao. Se no, si stanno passando. Sì, perché... Ok, aspetta che mi passano anch'io. Ci sentiamo. Ok, ok, siamo così. Io credo che... Non ti amino più. No. Non ti amino più. Ma... Io mi amico... Perché non lo sono un raidista, una... Che può essere. Ok, via libera, via libera. Porco croia, pizza! Sììì! Ok, è il momento wirro dell'ereto. Allora, erano 3 minuti. Ok, no, no, calma, calma. Allora, a me come i gusti mi piacciono molto la stracciatella, panna e puffo, stavo dicendo. Panna. E... Potre sparlo meglio. Il puffo sulle tette? No. Eh, ormora! No. No, 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 non faccio questo tipo di beneficio. Perché no? C'è un motivo bro, rendimelo valido. No, perché non faccio questo tipo di beneficio, non ti faccio spalmare il sole. Ho sbagliato una cosa. Ti conosco da due minuti. Hai ragione, hai ragione. Ti piace mangiare il gelato in compagnia? Sì. Hai non detto il gelato? No. Com'era? Faceva schifo? Abbastanza. Ti sente? Vabbè, comunque non è importante. Ti faccio i ragazzi con i capelli ricci? No. Capelli ondulati? Di lato? Ok. Bomba! Ok, ok. Sei... orribile. Madonna, adesso perché? Ok, ok. Però è finito il primo round. Facciamo lo switch con la ragazza. Questo è il primo round. Citi pure, citi pure. Siedo. Ok. Attiva il timer, Symox. Vai. Aspetta. Io mi mando ci sei. Tre, due, uno. Fanculo. Fanculo tu. Fanculo tu. Fanculo. 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 Fanculo! Fanculo! Fanculo. Ascolta, ma questo ti sembra un conteggiamento. Ma che cazzo vuoi? Fanculo. Ma tu ma che cazzo vuoi? Ma hai detto come cazzo vuoi? Se ti dico fanculo te devi rispondere e devi capire il tuo caso. Ma io ti dico fanculo. Ma qua ti dico fanculo. Ma qua ti dico fanculo. Ma qua ti dico fanculo. Ma se ti dico fanculo è come se ti dico... Allora, se ti tiro un pugno sulla mascella tu mi dico un pugno? Certo. Fanculo. 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 Guarda che in prima parola ce l'ho sempre io, mi dispiace. Mi sto eccitando. Fanculo. Fanculo. Anche io, posso dire. Anche a tempo. Veramente ha passato tantissimo questa cosa. Mi sono eccitato. Di solito. Bomba. No. Simone Berlini out. Simone Berlini out. Che gnocca la rossa. Simone Berlini out, ha detto. Ehm, dopo per certo cosa... A te cosa interessa un ragazzo? Allora, sicuramente i capelli rossi non sono la cosa che preferisco. Alto, più alto di me, perché quando metti i tacchi devo superarlo. E poi gentile, rispettoso. Tutte cose che secondo me tu non hai, lo sai. Tuga. Ah, è appunto. Sì, no. No, vai tranquilla, a parte gli scherzi. Io sono molto intugato e gentile, se vuoi te lo dimostro. Vai. Mamma mia, è vero male che hai i guanti. Ah, veramente, beh? No, quante scherzi. Ehm, bello, mi piace molto il tuo outfit. Spacca. Ti piace? Sì, anche io mi vesto molto così oversize. Ma perché due palle enormi solo per quello? Sì, anch'io ho il culo enorme, quindi devo... Oh! Fanculo. Fanculo tu. Beh, quali sei tutto. È finito? No, no, ehm. Ma tu non lo chiedi. No, no, no. No, no, no. Non lo chiedi. Non lo chiedi. Posso vedere? Alzati un attimo. Sobrevi quanto sei alta. Berlini? Non sono minorenni, come piacciono a te mi dispiace. Voglio dire il numero dietro. Bravo, mi raga. 92. Bene, bene. Tu fai rugby? Ti vesti così a cazzo. Esatto. Devo far serato dopo? Forse sì. Ok. No, è solo per... Per chiedere. Ma sei in mora... Cos'è questo colore? Ma è il mio naturale. Sì. Chiedevo il colore, infatti. Castano. Ok, castano. Ma fai uso di droghe? Eh, no. Però secondo me tu sì. Perché me lo stai chiedendo. Ehm... Bomba! Eh, mi sa che te li fai da solo perché... Eh, ma... Sì, vai, vai. Ciao Simone Berlini. Ti ricordi due mesi fa a Napoli del nostro flirt? Beh, io ci ho pensato e non voglio più baciarti. Sei cambiato. Ti piacciono le minorenni. Addio. A te piacciono le minorenni? No, più grande di me. Più grande? Quanto sei grande? Quanto sei grande? Quanto sei grande? Sì, quanto sei grande? Eh, guarda, grande è tanto. 2003? Due? No, sono contenta. Ehm... 23. Sei vecchia. Fuori. Scusa. Perché secondo te... Ma cosa vieni alla vita? Mi ha detto che sono 2003. Sì, no, sei più piccola. Cosa vieni alla vita? Faccio musica. Canta? Cosa vuoi sentire? Ehm... La notte... Eh, risparlo, basta, finito, bro. Erano minuti e dieci. Sì, devi dirlo prima. Siete là davanti. Ok. Mi stiamo rispondendo fate che mi odia. Perché? Perché non ho cagato tutto il giorno ma... No, no, adesso iniziava lei, adesso metto io il time. Io? Sì, sì, inizia te. Ok. Noi stiamo già presentati. Ditevi quando ci siete. Come se vi siete beccate adesso. Ok. Però sarebbe l'ingresso iniziale. Ah, con la musichetta. Scusate. No, sentiamo la musichetta. Vai. Ok, già il balletto. Ciao. Simone, piacere? Quante ne hai? 19. 19. Cazzo. Sono due. No, vai. Fidati, vai. Fidati, vai. Vabbè, 17. Rilunciamo. Qui siamo a essere amici. Ok, va bene, amici, va bene. Quindi minorelli solo. Bomba. Aspetta, zitti. Outfit check per la rossa. Simone Berlini out. Outfit check. Dai, fai vedere il tuo outfit. Ma in realtà sono visitato un saccissimo, ragazzi. No, voglio vedere il culo. Gira, ti fai vedere il culo. No. No, sto cazzando. Michelle. Vede tranquilla, vede tranquilla, vede tranquilla. Però non sono minorenne, quindi... Vabbè, scialla. E che faccio? Però sei simpatica. Ok, grazie. Sei castana? O nera? Castana. 2022 è bianco nero. Fatti cazzi tu, diciamo di merda. Che fai alla vita? Studio. Dove? Ancora no, alla Yulm. Alla Yulm? Sì, esatto. Alla Yulm? Sì, esatto. Ma è il mio cazzo appuntamento o è il mio pezzo di merda? No. Zitto. E tu? E tu? E tu? E tu? E tu cosa fai? Per forza a far domande sui. Fatti! Signora Michelle. Io faccio... L'Ingluencer. L'Ingluencer? Sì. Ok. Faccio TikTok, YouTube e Instagram. E ogni tanto aiuto il rosto a fare le live perché... Ah, quindi è che fanno sesso. Shhhh. Zitto. Un casco, zitto. Bomba. No, servirebbe qualche ginton. Mh. Aspetta, aspetta. Grazie. Grazie perché andiamo in minare. Outfit cecco di Michelle Polla di fianco a Te Rosso. Simone Merlini zitto. Alzati anche te. Alzati anche te. Tanto io non ho bloccato di tre minuti soltanti. Vediamoci tutti. Su. Così. Tutte e tre. Faccio anch'io? Dai. No. Vai avanti, vai avanti pure Michelle. Andiamo avanti con l'appuntamento. Manca un minutino. Ancora? Dimostra cosa sai fare. Cosa sai fare, Simo? Qual è la tua migliore qualità? Sì. Oltre al cazzo che abbiamo visto anche dal video di Youtube che è molto grosso. Sì, non cazzo. Non è un cazzo vero? È il rosso che ha una stecca così. Non è vero. Però è tutto peloso, marcia. Come i riceri dei capelli. Ah, tipo i tarzanellini, sai. No. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. È che non pettina. C'è tanti capelli. Non metto il gel al cazzo, sinceramente. Inizierò, scusate. Inizia a ruderlo un po'. Piesce dalla mutanda. Palleggio marcano, cazzo. Non è vero. Finito. Finito. Andiamo avanti con... Sono simmatico. E di quanto è ma però. Bravo. Bravo. E a me mi dico sempre. Ciao. Ciao. Piacere, Alessia. Simone, mi piacere. Ah, bisogna... Madonna quando... Che devo fare? Era via. Ok. Tu invece canti? Sì. Sì. Ho ascoltato. Sì. Oh, Madonna. Che cosa canti? Eh, faccio... Drill or Reggaeton. Oh, ma porca puttana. Ma state zitti? Sì. Quindi sì, faccio un reggaeton. Sì. All'inizio ero reggaeton. E anche scrivelo in spagnolo. Però poi ho cambiato con questo nuovo genere che si sta. Comunque meglio in Italia. Mi piace molto. Perché comunque posso... Tipo Fredepalma. Sì. Sì, esatto. Mi piacerebbe un sacco. Sono spagnolo? Sì. Sì. Se tu chieras potremmo parlare spagnolo. Oh, mamma. Sono venuto io. Sì. 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 È Poglio. È Poglio. Ma capito che... Perché? Sì. Perché Gioè è più argentina. È argentina, sì. Infatti, ascolto molto canzoni argentine. Lui fa un sesso molto caliente secondo me. Tipo lui si muove molto piano. Come il sito? Lui farebbe sesso così con lei. Ve lo aiuto. Alexis riproduci musica erotica. Ti faccio vedere come farebbe sesso. No. Una cacciata. Lo vedete a questo punto. Alessia, Valeria, alzati un attimo. Alexa, metti avventura. Alzati un attimo. No, proprio alzati un attimo. Alexis, io ti pago per questo. Tu non puoi farmi aspettare 10 secondi. Metti avventura. Tu non lo paghi, fai schifo, è una merda. No. Hai capito quale? Eh, meglio quale ti vuoi fare, secondo. Niente. Bomba. Ciao a tutti, sono Losco, per gli amici Gianmarco, sono in coma da una settimana. Sto molto male, ma meno male che ci siete voi che mi strappate un sorriso. Vorrei solamente dire una cosa a Simone Berlini. È colpa tua che sono in coma, quel giorno in cui mi hai preso, scopato il culo e picchiato a sangue mentre ero in dormiveglia, non me lo scorderò mai. Ti auguro il peggio, guardia di merda. Comunque segui BHODY su il che sta piangendo. Gnocchia la rossa. Ho fatto adesso un ragazzo in coma. Non posso! No, ha detto che lo metto in coma io. Ah beh, l'ho fatto bene. Come facciamo andare in coma un ragazzo? Io faccio. Ok. I tre minuti siamo finiti. No, sì sì, adesso faccio l'ultimo... Voglio fare l'ultimo round, dove l'ultimo round è un attimino... Io contro di te. Ok, quattro sedie. Quattro sedie. Quattro sedie. Bomba. Ok. Bomba. Aspetta. Ti ringrazio di cuore rosso perché mi fai sorridere tanto in queste live. Mi fai strappare un sorriso. Mi fai strappare anche i peli dal culo da quanto mi fai innervosire la tua faccia da blatta scaduta porco dio ma perché non chiudi questo canale e inizi a lavorare in qualche posto umile. Non so vai a fare il call center. Ultima cosa ma non la meno importante. Mettiti due dita dove non batte il sole e fatti un bel lavaggio completo. Faccio io. Testa di cazzo. Testa di cazzo. Ok, vai, vai. No, vieni pure famicelle. Scusami, non ve lo distruggiammi il ginocchio. Ok. Inizia l'appuntamento a quattro adesso. Ok, dovete vedere chi ha un attimino più intraprendente tra i due. Dai, dimmi quanti sei attivato il timer, il tuo timer biologico. Ma c'è la mafia? Qua dimmi. Qua dimmi. Qua dimmi. Ok, dai. Ok. VT quanto sono le alte? Mentre 69. Ok. A tutte e due uguali. Due uguali. Una e sessanta. Sì. Anche di te è uguale. Alzati. Sì, sì. Che musica ascoltate? Un po' di tutto. Reggaeton. 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 Sta provando? Eh, sì. Da fredde palma. Sì. No, è femminile. Ok. Chi che c'è adesso? No, come si chiama? Eh... Come si chiama quella di... Scusate! L'italiana. Quella che canta l'italiano. Analisa. Sì. L'italiano. Sì. Ma lei... Cosa c'è la canta? Cosa dici? Non c'è la canta. Ma non c'è la canta. Ma non c'è la canta. Ma non c'è la canta. Chi c'è la canta? Chi c'è la canta? Eh? Un Q 42. Vabbè... Le misure non sono importanti. C'è una importanza con la 42 e la 43. Lo dicono sempre. E' importante per quello sguardo di un ragazzo. Eh sì. Importantissimo. Ok. Facciamo lo sguardo in tre secondi. Lidiamoci. Vai. Sei pronto? Pronta? Iniziate a farlo più a te. Lo facciamo assieme. Lo facciamo assieme dai. Lo facciamo assieme dai. Lo facciamo assieme dai. Ah no, perché per lui ci voglia i contact. Mi guarda testa di cazzo. Ma che cazzo vuoi? Mi prendo a pugno, ok? Ma adesso dimenti. Facciami dai colta. Te facciami così. Alla camera. Ti facciami la vita. Io ti ricordo che tu mi devi la vita. Senti, va. Vivo. Posso farvi la colta attiva? No, no. Vabbè, ma è il timer da 5 minuti. Ok. Posso... Faccio lo sguardo io come... Com'è quello originale. Cioè quello... Cioè, ditemi se li attrago sessualmente parlando, ok? No. E faccio un altro. Io sono venuto. Vai. Faccio un altro. Allora, meglio però... No. No, direi proprio bocciato. Faccio un altro, faccio un altro. No, no. Sembra tantissimo tipo... Un coglione. Un coglione. Vabbè, comunque... Vi piace il tuo... Vi piace il tuo tuo... Non quelli che vanno via e che neanche togli bene. Questo è il cosiddetto. Io ne ho tre. Dove ce l'hai? Io ne ho... Posso farlo vedere? Sì. Sì, sì. No, non posso farlo. Dimmi, dimmi. Sono quello del culo, forse. No, farlo vedere. È sopra il culo. Ma me lo dirò mai prima? Rischioso. Rischioso. Ok, rischioso. 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 Vabbè, io... Io ho tre. Questo qua è uno scarabocchio fatto da ubriaco a Los Angeles e me l'ha fatto un mio amico. Fa vedere o si può vedere? Sì. Sì. Ah, ce l'ho nella stessa posizione. Sì? Doveva essere una data. No, la tuta. No, vabbè. Doveva essere una data. Che era il 12... Invece ora dico la gente che è il primo scarabocchio di mia sorella. Ah, fantastico. Ma... Poi ho dietro il culo. Sì. Grande per il merda. Diciamo che la posizione no, però come messaggio. A me ne ho messo dietro il culo perché sapevo già che comunque non... Era una cosa di cui mi ne sarei pentito per sempre. Cioè. Vabbè... Vabbè... Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Mamma, c'è una figa. Mamma, fama vedere. No, no, aspetta, ma proprio su... Sopra. Sulla... Quanto male ti hai fatto? Sulla labbra? Mamma. Cioè, tu hai scritto... Cioè, qua mamma. Ma verso sopra, verso sotto, verso il dato. Aizzo. Wait. Così? Mamma, mamma. Ah, una croce. Una croce. Voglio vederla. Non puoi vedere. Ma serio? Non puoi vedere. Ma è una hit, è come se mi... Ma sono moroso e ti ammazza di bocca. Ti faccio vedere anche più cazzo, se vuole. Cioè, una persona di amicizia. Ti faccio dire che io sul cazzo che cosa ho scritto? Poi tottino. Poi tottino. Fatta... A caputino, che ho chiusato. Aspetta, hai tanzonelli. Eh? Dice che sei tanzonelli. Vabbè, lui ha parlato troppo. Cioè, quando devi... Devi aprirlo tipo... Sì, sì, sì. Sì. Esatto. Così. Ti piacciono i capelli rossi? L'hai detto di nuovo, forse? Non ti piacciono i capelli rossi? No. Non è che non mi piacciono. Non è che non mi piacciono. No, non è che non mi piacciono. Però... Non lì, c'è... Non... Va bene. È la solita tipo che parla parla e poi arriva l'estate... No... È una battuta che faccia sempre a tutti. No, è una battuta che faccia sempre a tutti. No, è una battuta che faccia sempre a tutti. È... È... Bello. cosa ma è fake è vero perché non è sottile? è fatta apposta perché si perché non è messo quel più grosso? perché non è messo quel più grosso? ma sono cazzi suoi scusami posso parlare? stavano conoscendo ma posso chiedere come cazzo è sto cazzo di seps? ma può metterselo come cazzo vuole? io senti che posso provarlo? e lui è il buco di buco? no io se lo serve in quanto non me lo toglierò mai per metterlo nel tuo naso come se ti chiedessi come se avessi un plug anale in questo momento e dicessi guardassi te vabbè è stato abbastanza chiaro adesso se volete dare con un attimo di suspense però riproduci musica suspense voglio presenta fai l'ultimo spiega l'ultimo adesso appunto ci sarà il risultato finale secondo me è andata bene ragazzi ma dobbiamo confrontarci non toccarlo qua perché lo succede ok